Una 62enne dipendente della Residenza Fanese per Anziani, Cante di Montevecchio, è stata sospesa dal pubblico servizio in quanto ritenuta responsabile di maltrattamenti verso i degenti della struttura affidati alle sue cure. Le indagini condotte congiuntamente dai militari del nucleo operativo e radiomobile della stazione di Fano sono state avviate a seguito di alcune segnalazioni riguardanti alcuni comportamenti della donna nei confronti degli anziani. Le intercettazioni ambientali hanno permesso di costruire e documentare ben 16 episodi distinti ad opera della OSS, di alcuni compiuti alla presenza e in concorso con una collega di reparto più giovane, la cui posizione allo Stato è stata ritenuta più marginale, dando vita nei suoi confronti alla sola denuncia a piede libero. Dai primi accertamenti dei carabinieri è risultato che la donna era stata assunta nel 2006 ed è risultato aver subito svariati provvedimenti disciplinari per fatti analoghi. L'OSS addetta alle mansioni di accudimento degli anziani rivolgeva continuamente espressioni ingiuriose, indinigranti e minacciose, aggredendo gli anziani in più occasioni sia verbalmente che fisicamente con strattoni. I maltrattamenti riscontrati attraverso riprese video hanno evidenziato l'umiliazione, violenza fisica e psicologica che rendevano di fatto intollerabile la vita degli anziani affidati alle sue cure. Gli atti di violenza, sia verbale che fisica, avvenivano spesso nei pressi di camere di degenza degli ospiti della struttura, ma in alcune occasioni anche nei locali comuni adibiti allo svago e alla consumazione dei pasti. Gli anziani sono risultati tutti accomunati da una situazione di grande fragilità fisica e morale. Entrambi le donne risponderanno di maltrattamenti. La 62enne, in attesa di giudizio, resterà sospesa dal servizio per sei mesi.